Buonasera da FamilyTG, approfondimento a cura di Federanziani. Benessere e salute al centro degli sviluppi delle nuove tecnologie per controllare costantemente il nostro corpo e la nostra salute. Subito dopo gli annunci di Nintendo sembra che anche per Apple il futuro passi per benessere e salute. L'iWatch, il prodotto più atteso della casa di Cupertino, sarà l'elemento centrale di questa nuova gamma di servizi con una nuova applicazione dal nome programmatico di HealthBook. HealthBook dovrebbe mettere insieme molte applicazioni già esistenti, dal contapassi al conteggio delle calorie bruciate fino alle distanze percorse, oltre alla possibilità di tracciare i propri progressi, per esempio per le diete e il peso e tutti i segnali vitali, dalla pressione a livello di idratazione fino al battito cardiaco e ai livelli di glucosio. Insomma, la combinazione tra sensori sempre più sofisticati e più economici, interfacce sempre disponibili e banche dati sempre connesse, metterà ogni utente al centro di un sistema di monitoraggio e condivisione della sua salute. E' senz'altro una buona notizia per chi ha bisogno di un controllo continuo della salute e per chi vuole tenersi sempre in forma. Gli incidenti domestici in Italia sono quasi 3 milioni ogni anno. Per questo il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito internet una guida per cercare di limitare il fenomeno. Ogni anno in Italia si verificano circa 2 milioni e 800 mila incidenti domestici. Le cadute degli over 65 sono la maggior parte, determinando il 65% di tutte le morti per incidente domestico. La metà degli anziani che cadono in casa si rompono il femore, mentre nel 5% dei casi viene colpita la colonna vertebrale, con gravi ripercussioni sui livelli di autonomia, salute e qualità della vita. Quando si parla di cadute domestiche dei anziani bisogna considerare anche e soprattutto quelle che si verificano nelle case di cura e negli ospedali. Le cifre sono quasi tre volte superiori a quanto si registra in casa propria. Tutto questo si ripercuote anche economicamente nelle casse del Servizio Sanitario Nazionale per una spesa di circa 400 milioni di euro. Per cercare di prevenire questo genere di episodi, il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di consigli e informazioni utili per far comprendere la gravità del fenomeno e per migliorare la sicurezza. I dati d'altronde sono preoccupanti. Si stima che nel 2012 sono finite al pronto soccorso per incidente domestico oltre 1.825.000 persone. La nuova Carta Europea dei diritti del malato di cancro. Alla base c'è l'equità per tutti i cittadini europei di accedere alle cure. È stata presentata nella sede del Parlamento Europeo di Strasburgo la nuova Carta Europea dei diritti del malato di cancro. Questa carta rivolgendosi ad ogni cittadino europeo invita ad agire per risolvere le significative disparità che ancora esistono a livello comunitario tra i pazienti affetti da neoplasie. Alla base della Carta Europea dei diritti del paziente malato di cancro si trovano tre articoli che pongono al centro il paziente. L'articolo 1 riguarda il diritto di ogni cittadino europeo ad essere accuratamente informato e attivamente coinvolto nel proprio percorso di cura. L'articolo 2 stabilisce il diritto di ogni cittadino europeo ad avere un tempestivo accesso alle cure dedicate e specializzate, sostenute in modo costante dalla ricerca e dall'innovazione. Nell'articolo 3 infine si definisce il diritto di ogni cittadino europeo a ricevere cure all'interno dei sistemi sanitari, percorsi di riabilitazione, migliore qualità della vita e cure mediche accessibili. Nel 2012 i dati parlano di quasi 3 milioni e mezzo di persone che hanno ricevuto una diagnosi di cancro, che ha causato la morte di 1,75 milioni di persone, cioè circa 3 al minuto. E con l'invecchiamento della popolazione le stime parlano di un numero che arriverà a circa un morto ogni 10 secondi. Il cancro pesa sull'economia di tutto il mondo per un valore complessivo che sfiora i mille miliardi di euro. E in occasione della giornata mondiale contro il cancro si è deciso di approfondire alcuni temi sui tumori che sfatare alcuni miti. In occasione della giornata mondiale contro il cancro si è deciso quest'anno di sfatare alcuni miti che circondano il cancro per mantenere viva l'attenzione su una malattia che causa ogni anno 8 milioni e 200 mila morti in tutto il mondo. E le cifre sono destinate ad aumentare. Oltre ai progressi scientifici è importante però che anche l'informazione, o meglio una corretta informazione, possa essere utile per contrastare la malattia. Veniamo dunque ai miti da sfatare. Secondo molti di tumore è meglio non parlare. Invece, secondo alcuni studi emerge che affrontare il tema è utile a tutti, malati e non, per adottare abitudini e stili di vita che possono ridurre il rischio di insorgenza. Altro mito, il cancro non dà sintomi. I sintomi del tumore possono essere subdoli, ma bisogna imparare a riconoscerli anche perché i tumori si curano meglio se presi nelle fasi iniziali. Oltre a controlli periodici bisogna fare attenzione a segnali come la perdita di peso, l'affaticamento prolungato, gonfiori, dolori o sanguinamenti. Alcuni sostengono che contro il tumore non si può fare nulla. Non è vero. La prevenzione può fare molto. Per questo le organizzazioni internazionali sottolineano che il fumo è la prima cattiva abitudine da eliminare per ridurre le probabilità di ammalarsi. Un nuovo metodo per diagnosticare la celiachia accorciando i tempi. In Italia ne soffrono ancora 600.000 persone. Le persone che hanno l'intolleranza permanente al glutine, ossia i celiaci, aumentano del 10% ogni anno. Si tratta quindi di un problema in espansione tra la nostra popolazione, dato il crescente numero di diagnosi positive, circa 350.000 ogni anno. Secondo l'Associazione Italiana Celiachia ne soffrono in Italia circa 600.000 persone, una tendenza che determina un fattore importante, la diagnosi precoce. Gli esami standard però richiedono del tempo, come per esempio la ricerca degli anticorpi antiedomisio e antiliadina. Si tratta di esami che precedono la biopsia intestinale, dalla quale alla fine si potrà ottenere la conferma di essere celiaci. Presto però potrebbe essere messo in pratica un metodo alternativo e sicuramente meno invasivo, spiegano gli esperti, che necessita soltanto di un semplice esame del sangue. Un metodo sviluppato in Australia dai ricercatori del Walter & Eliza Institute. Un metodo che potrebbe favorire una diagnosi precoce, proprio perché i tempi di analisi si ridurrebbero di molto. Si parla di un ciclo di esami con le relative risposte da effettuare nell'arco di 24 ore e che soprattutto limiterebbe l'assunzione del glutine da parte del paziente soltanto per tre giorni, a differenza della biopsia intestinale che invece richiede settimane. Per molti l'agricoltura rappresenta ancora una fonte di guadagno, ma a occuparsene sono soprattutto ancora gli anziani. L'agricoltura è il futuro dei giovani? Lo dicono in molti, ma sembra che nei fatti sia un futuro ancora lontano. Questa almeno sembra la situazione in Toscana, vale a dire una delle regioni che maggiormente punta alla tipicità dei prodotti, alla qualità, all'innovazione e all'integrazione con il territorio, tutti aspetti che dovrebbero attirare i più giovani. Eppure l'agricoltura toscana è ancora vecchia. In Toscana la media dei operatori del settore è di circa 63 anni, con un'incidenza dei giovani pari a poco più del 7%, dato non certo sufficiente anche se confortante rispetto a quello nazionale, che vede la partecipazione degli under 40 ferma al 3,8%. Tra le proposte fatte dall'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli c'è quella di creare un percorso di affiancamento che tenda a stimolare e valorizzare la partnership tra gli anziani proprietari ed i giovani gestori. La sfida, insomma, è quella di unire il dinamismo dei giovani all'esperienza dei più anziani, per portare nuova linfa a un settore chiave dell'economia, mantenendo la necessaria solidità. Grazie per averci seguito. Buona serata.